Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei fare vedere come realizzare Gianna di Toramont con le pisla. Allora vediamo cosa ci serve. Allora, una grilla quadrata, una pinza per chi vuole, le pisle, i colori sono nero, arancione, bianco, marrone, blu, rata, e ferro da stilo e corta forno. Cominciamo a fare la testa e i capelli. E per i capelli servirà il nero. Adesso facciamo la testa. In questo colore che c'era... Così. Adesso in questi buchi andiamo a fare gli occhietti con il bianco e il nero. Così. Adesso andiamo a fare la maglietta con il bianco. Adesso in questo spazio andremo a mettere il bianco. Adesso facciamo le mani con il colore carne. Così. Adesso andremo a fare i pantaloni con il marroncino o il marrone scuro. Così. Adesso facciamo i piedi con il bianco scuro. Adesso andiamo a stirare. Io lo stiravo dopo per il risultato come questo. E il video è finito. Spero che si fai cagliato e non ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.